Unicità. Da questa parola si è plasmato il nuovo stadio della Juventus. 15 anni fa la prima idea fu di Antonio Giraudo, rifare il delle Alpi. Primo passo, la concessione per 99 anni dell'area intorno al vecchio delle Alpi. Il progetto, interamente rivisitato, decollò con la nuova dirigenza proprio quando Calciopoli pareva aver spazzato via tutto e fu approvato nel marzo 2008. Uno stadio che sarà in un ambiente estremamente sicuro, sicuro, scusa, accariante e esteticamente unico. Poco più di tre anni, costato circa 120 milioni per 41.000 spettatori, ovvero 3.000 euro a posto, quasi la metà rispetto al costo medio dei grandi stadio europei. Con il nuovo stadio si intenda e finalmente si arriva ad avere in Italia e quindi a Torino per prima una nuova cultura di vivere il calcio. Una realtà sportiva, certo, ma non solo. La Juve ha ceduto alla società Sport5 parte dei diritti commerciali compresi quelli sul nome dello stadio. Per questo il club ha ricevuto 75 milioni di euro e con questa mossa l'ormai ex amministratore delegato Blanc ha trovato i soldi per trasformare un plastico in realtà senza finanziamenti pubblici dovuti all'organizzazione di europei o mondiali. Tra merchandising, abbonamenti, apertura a 7 giorni su 7, ristoranti, bar e tour guidati, si prevede un utile di 30-35 milioni di euro, già da quest'anno, il doppio rispetto al passato. Senza dimenticare la riqualificazione urbana di un'area di quasi 600.000 metri quadrati, centro commerciale compreso, tutto rigorosamente realizzato secondo i principi di ecosostenibilità, compatibilità ambientale e totale assenza di barriere, una vera rivoluzione culturale. Altro aspetto di unicità, il design italiano, con il valore aggiunto delle firme Pininfarina e Giugiaro. Lo stadio che cambia il calcio è anche un modello architettonico e di business, made in Juventus.